I carabinieri di Fano hanno intercettato alle 5 dell'altra mattina, anche grazie ad una segnalazione al 112, in località Falcineto di Fano, un'auto sospetta, un Audi A6 nera con targa rumena. Alla vista dei militari il conducente ha effettuato una rapida inversione e ha iniziato un breve inseguimento che si è però interromto poco dopo. Dall'auto sono uscite 4 persone che si sono date alla fuga nei campi. Soltanto l'autista è stato bloccato dai carabinieri e trattenuto in caserma. All'interno dell'autovettura è stata trovata tutta l'attrezzatura necessaria per scardinare porte e finestre, numerosi cellulari e vestiti di ricambio. Tutto materiale abbandonato dai fuggitivi. Sul portoggetti lato guida una lama da 19 cm utile per ogni evenienza. L'uomo aveva i polpastrelli delle mani coperti con la colla per evitare il rilascio di impronte. I militari per completare il fotosegnalamento ed il prelievo dell'impronte hanno dovuto aspettare l'apertura di una ferramenta per comprare del solvente. Le ricerche dei quattro sono durate tutta la notte ma senza esito. L'uomo, un rumeno di 36 anni, incensurato, è stato denunciato per porto illegale di armi e rimesso in libertà. L'autovattura, il materiale e i cellulari sono stati sottoposti a sequestro per ulteriori indagini.